Il convegno del Cirigliano si apre con una prova riservata ai tre anni sul doppio chilometro, il premio Nero d'Avola. Alla chiusura delle ali Chiara Degliulivi attacca Clown Regal, problemi per Chiara Degliulivi che si apre di galoppo e così rimane davanti Clown Regal a precedere Classic Gall e Conte Filmont partito sollecito dalla seconda fila. Quarta posizione per Condor Boccino, piuttosto lento lo stacco i due cento iniziali, il cronometro non è scattato quindi andiamo a vedere se riusciamo a prendere gli ultimi 1600 metri di gara. Clown Regal tranquillo leader seguito da Classic Gall e Conte Filmont, quarta posizione Condor Boccino, poi il 6 Caronte Griff affiancato da Corsa Jet che comanda il treno esterno. Oltre a Chiara Degliulivi che è finita già negli strali della giuria, viene squalificata anche il Coward USM. Nulla cambia anche al completamento del primo giro, Clown Regal leader guadagna due posizioni interne Condor Boccino sull'allargamento consecutivo di Classic Gall e Conte Filmont. Ci sono 600 intermedi in 49 e mezzo, nel frattempo è finito squalificata anche Cleverfit LF e Classic Gall è andato ai lati di Clown Regal costringendolo ad alluncare. Si muove anche Caos LL che va in terza pariglia, Clown Regal sempre affiancato da Classic Gall, Condor Boccino di dentro allargo Conte Filmont. Un chilometro intermedio in 1.21, sposta in terza ruota Conte Filmont e sospinge Classic Gall sul leader. Clown Regal nel frattempo con una frazione in 14.9 ha respinto un primo tentativo degli avversari. La rottura di Classic Gall che lascia Clown Regal in vantaggio, una leggera difesa caratteriale per Clown Regal che poi richiesto da Giorginio prende vantaggio. Stappato se ne va Clown Regal, il figlio di Vividwise AS conclude isolato, mentre Condor Boccino è buon secondo a precedere Caos LL. 4.10.11 l'arrivo probabile ed ufficioso sul nostro cronometro, 2.6 scarsi per l'ultimo miglio, quindi più o meno dovrebbe aver percorsi 2.000 metri nell'ordine del 2.37.5-2.38. Il vincitore Clown Regal, un figlio di Vividwise AS ora Griff, i colori della Lerwick, Giuseppe Capasso al training e Giorgio D'Alessandro Junior alla guida. Si apre così il convegno del Cilidiano di Aversa.